Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare Libertà. Oggi siamo ancora nello spazio riservato ai vocalizzi. Per chi non sa e non ha mai visto queste puntate, c'è una prima puntata che parla dei vocalizzi, quindi vi lascerò un link in descrizione in modo da capire a cosa servono e come si utilizzano. Oggi in studio con me c'è Gabriella. Ciao a tutti! Gabriella Lannuncio che è una brava cantante e quindi si aiuterà a fare degli esempi per le voci femminili. Dopo la sigla. Canta, 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 in libertà. Bene, il vocalizzo che vi propongo oggi è un arpeggio dove si ribatte l'ottava. E' troppo difficile detto così, ve lo faccio vedere. In pratica Le note sarebbero, facciamo finta che siamo in Do Do, Mi, Sol, Do, 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 Sol, Mi, Do Do, Mi, Sol, Do, 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 Sol, Mi, Do E questo in tutte le tonalità andando sempre a tempo. Do, Sol, Do, 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 Sol, Mi, Do Ok, vi facciamo qualche esempio anche per le voci femminili. Nei, 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 Nei Usiamo questa Nei, 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 Nei In modo da avere il suono subito in maschera Fate un suono piuttosto brutto Non di gola ma in maschera Facciamo un altro esempio E poi saliremo e scenderemo Partiamo sempre dal basso Per le voci di basso e contralto soprattutto E poi piano piano saliremo E aggiungeremo sempre mezzi soprani e baritoni Parlando di donne e uomini E poi soprani e tenori Andiamo passo passo Partiamo per i bassi, molto basso Provate voi da soli Andiamo avanti Qua si possono aggiungere i baritoni e i mezzi soprani Nei, 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 ne Ancora Andiamo un piso Ascoltate un attimo Mi raccomando a fare questo suono Ok, adesso scendiamo Per semitori Provate voi Insegniamo E bassi Ma praticamente solo bassi e contratti Nei, 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 nei Facciamo l'ultimo Nei, 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 nei E è molto bassa Bene, spero che sia stato utile per voi questo esercizio Io ringrazio ancora Grazie a te Gabriella Lanuce e vi diamo appuntamento alla prossima puntata ciao